Sono Pedrizia Palanca, il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Enrico Fermi, dove ci troviamo Gina Scolipiceno, una scuola che ha puntato molto sull'innovazione e che è stata forse una delle vostre prime scuole partner in questi processi innovativi che hanno coinvolto anche l'alternanza scuola-lavoro, dandogli una nuova veste, una nuova visibilità. Siamo oggi infatti a parlare di questo importantissimo progetto realizzato con dei partner come Facebook, come Mondo Digitale, come il CNA, che fa vedere come si possa realizzare nella sinergia di più componenti un processo innovativo che dà luce all'efficacia delle competenze acquisite dai ragazzi, traducendole e declinandole in quelli che sono i servizi, in questo caso le persone più anziani ai nonni. E quindi penso che sia uno spaccato davvero molto incisivo di quello che può scaturire quando con la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro si coinvolgono e si stimolano questi alunni a mettere a disposizione le loro competenze per altri, come in questo caso per le persone anziane, tra virgolette, nonni.